Bello a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo vlog. Buongiorno ragazzi, ci troviamo nella strada per andare allo stadio per vedere la Ternana. Vabbè, la maglietta ce l'ho qua sulle mani perché adesso ho maniche lunghe. Come vedete, forse dopo l'amento si fa freddo. Di solito, vi ho in atti. E oggi stasera, che partita vediamo? Vediamo Ternana e Regina, valida per la prima partita in casa per i liberi liberati. Vediamo, comunque abbiamo molti indisponibili, quindi speriamo bene. Ci vediamo dopo quando siamo là. Ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati sullo stadio, davanti allo stadio. Inizia già ad essere frequentato e mo' ci leghiamo sul nostro settore e andiamo verso la. Quindi ecco, ci vediamo dopo. Bella rega. Eccoci qua ragazzi, siamo entrati allo stadio. Come vedete questa è l'anta, l'entrata principale. Però noi dobbiamo andare a fila. Qui ci sono i due pullman, a cui adesso faremo la foto e ci vediamo ai tornelli. Bello ragazzi. Eccoci qua, stiamo salendo le scale ragazzi. I controlli sono andati. Speriamo non piova. No, non è questo il tornello. Eccoci qua, ci vediamo una volta quando siamo arrivati al tornello. E' entrata in campo delle scale, eccoci qua. Forza! La trenuna con moti disponibili però dai, forza! La Dernana. Ed entrano anche quelli della Lecina. E' entrano anche quelli della Lecina. Dal 1925, un amore, una passione, una fede, queste sono le fere! Numero 1, Antoni Iannavilli. Numero 2, Mandotu Coulibaly. Numero 5, il capitano Antonio Palundo. Numero 14, Francesco Di Tacchio. Numero 17, Andrea Favilli. Numero 19, Marco Capuano. Numero 21, Anthony Bartipilo. Numero 23, Salim Diachite. Numero 26, Luca Bogdan. Numero 34, Davide Agazzi. Numero 91, Niccolò Corrado. A disposizione di mister Cristiano Lucarelli. Numero 12, Krapikas. Numero 4, Sorensen. Numero 7, Capanni. Numero 8, Proietti. Numero 10, Falletti. Numero 11, Spalluto. Numero 16, Rovaglia. Numero 20, Paghera. Numero 24, Ghiringhelli. Numero 25, Defendi. Numero 30, Celli. Numero 99, Ferrante. Forza Feri! Ecco, è iniziato. Alto di inizio. Nella porta feri. No! Forza! Vai, forza! Programmer, Natale! Vinski! Vini! 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 bravo bravo Número 21, Antoni Martipino! Volevo! Bravo! Buogiorno! È un gioco! mi piace molto guardando ci arrivi è stato distorco fine primo tempo le squadre sono tornate i spogliatoi allora ragazzi è finito il primo tempo la squadra da Matteo con l'asco attacca di più secondo me un po' più tempo la squadra che ha fatto il gol del 1-0 il miglior in campo Opalumbo e Bartipilo Bartipilo è mostruoso infatti hanno annalato pure un secondo gol per un secondo fallo d'attacco a quanto pare penso la stessa cosa era detto Leonardo quindi ci torniamo d'accordo su questo comunque niente Forza Perez ci vediamo nel secondo tempo ciao bella ecco intanto la squadra la squadra la regina Forza Perez dai ecco ecco c'è il calcio di connessione per la regina laggiù è Pico Inzaghi e ora speriamo bene e ora speriamo bene Grazie a tutti. 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 Abbiamo avuto anche un infortunio di Luca Botkan, un giocatore che comunque entrambi stimiamo molto e ci dispiace e speriamo farla mettere il meglio. E sono entrati, infatti come avete visto sono entrati Barella e Ambulanza, speriamo che si rimetta presto quindi forza. che torni a lottare con il calcio che torni a lottare come un leone. E la pernone ha giocato molto bene il calcio, è molto fluido e anche sicuro. abbiamo scontrato abbiamo scontato una cosa molto importante che abbiamo saputo difendere, una cosa che ad Ascoli non c'è stata e quindi deve continuare così. Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fino ad adesso della Ternana. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Barella Barella. Grazie. Grazie.